Il premio di Nicola è un premio che porta avanti da 13 anni per gli studenti abruzzesi per motivarli a studiare matematica e discipline scientifiche. Il vincitore verrà ricompensato 700 euro in euro o bitcoin a scelta, il secondo classificato 300 euro e da quest'anno ci sarà anche un incentivo rosa, un premio extra offerto da mia sorella per la migliore sua intessa, ragazza meglio classificata. Centinei di ragazze hanno partecipato in questi 13 anni a questo premio, molti di questi hanno poi fatto domande all'università all'estero, per esempio l'anno scorso, cioè quest'anno il vincitore di due anni fa è stato ammesso in un'ottima università americana, altri ragazzi sono entrati ottimi professionisti in Italia e nel mondo, quindi sono contento perché ho fatto prendere loro coscienza dei propri mezzi e far sì che possano decollare e volare alto nel mondo. La cosa che mi piace e che vorrei è che sempre i ragazzi a Teramo capissero che non sono ragazzi nati in un posto come si dice qui nella provincia dell'impero, sono invece ragazzi che hanno ente competenze, talento, forza, importante dentro che però non gli viene riconosciuta. A me piace far sì che questa forza emerga e far sì che loro capiscano che possono avere o competere a livello mondiale. Io davvero ne ho visti tanti, le posso dire centinaia di ragazzi in questi anni e davvero ce ne sono tanti bravi. Quello che manca è un po' l'autocoscienza, la determinazione, la consapevolezza per i mezzi e questo è un po' quello che il premio vuole far affiorare.